come può essere successo un lo so però peter ci sarà la casa piena di fatti corrieri e ci chiamano di continuo se ballo riempio casa ma da lui scarta quello scarta quell'altro sembra dice adesso a natale ma non solo a robine in natale quest'anno con peter e con gira di barri anche che tu puoi riuscire a fare i regali natale tutti gratis senza ne spende nulla quarsini di lana noi siamo riusciti a trovare in modo da me e alzini omodi e di un spazio nemmeno nulla più risparmio dio si ci sono lasciati la volta scorsa che io non sapevo più come fare perché la fedora voleva regali per natale e io avevo alla fine o sordi e anche boni amazon e quindi la voleva quella filatore a luce puzzata che io tre o quattrocento euro e dove trovo a invece a robiter me andava in un costo giro perché che è successo poi l'epilatore gli hanno regalato sua e allora io gli ho dovuto fare qualcosa di vestire qualche cosa questa maniera vi regali ero fatti più di uno ma più piccini con la app e ha trovato cento moni che si chiama warsocks carcini di lana to e padala boni e nemmeno sperano anche se hai tipi del male lavoro però questo spela a chi io e fanno i nostri arzini di lana ci hanno aiutato però quest'anno a fare un gran per natale tutto questo ben di dio che arrivava a chi morirei a gradi se di continuo magari gli si fa anche l'unboxing e egli separato e venere chiediamo glielo per bene peter come si fa bisogna innanzitutto partire dai link che trovi sotto a questo video che dall'articolo ha fatto centremoni ai blog tecnogalax il link è buono uguale il nome il cognome la mail in cellulare e ci si registra si va direttamente nella mail a picciare quella verifica della mail e si manda avanti si scarica tutto quanto la app e nova di wall socks e arzini di lana inizia a fare l'accesso e invece di mettere domenchi starava in questa porta ci si può collegare a questa una app finanziaria e ti fa tutti i reso onti delle più spendi in banca di tutti i movimenti e ti fa un modello di come ti sta andando l'eonomia in tasca tua se ti spendi troppo sei mese prima fa spesso meno le proiezioni ti fa tutti e orti in tasca a peter e così si riesce anche magari a mettersi paura se uno è uno spendacione ma magari riesce anche lui a risparmiare un po di più grazie a questa app e gli da tutti consigli buoni tutti i meglio sconti meglio hashback è molto facile una volta tu sta dentro colleghi uno o più dei tuonti orrenti a questa app tu gli dai l'accesso per 12 mesi a tutta la lista dei movimenti e tu fai ma loro non ti possano pigli a sordi fa bonifici e steose qui il tuo conto non possono smovimentare in nessun modo per maggiore sicurezza di quello che sto dicendo vai a leggere l'articolo ai bloc tecnogalaxy e ha scritto jantamoni dove gli spiega magari un quino meglio di tutte queste transazioni online e ai negozi che ti portano però un monte di hashback un monte di ritorno della spesa con soldi e ti ritornano i conto un re e pacchi inizialmente e tu li fatti una volta però che tu l'ha pagati con la carta collegata al conto che è legato alla app di warsox qualche giorno dopo e che succede video di rote e sordi ti ritornano all'interno di questa app che tu va nella app tu gli riedi ridammeli i soldi e loro e ti danno e sordi a te e sordi e tu ha speso che il pacco e di ritorno ricordo un re ma che così praticamente tu fai tutti i regali di natale a gradi si ha la cosa meglio è pari come peter infilassi arsini di lana ci si mette lì nella app si va in impostazioni e c'è scritto collega conto tu ci scrivi il nome della tua banca c'è una fila lunga e nemmeno se poi tu ci promette quella principale perché tua paura il mio conto io ho un monte di soldi mattici un conto secondario un conto terziario con tutto già quasi nulla un porta mia per forza tu ci metta il conto quello più grosso e tu c'hai ma che ce n'è uno se tu c'hai un conto solo ed un segnullo perché come si dice sempre il canale youtube votata al risparmio non si deve mai avere un conto solo quindi è un tattaccio al temore arriva anche altro conto e poi colleghi questo conto qui alla app di wall socks tutte le spese che tu fai devono essere fatte una carta collegata a questo conto e tu gli ha messo un app così facendo loro ti rionoscano le transazioni che tu fai l'ordine di tutta la roba e questa roba poi e sordi vengono un cashback tornati indietro il nostro conto e noi e cisiria e sordini un'altra volta ti consiglio anche di verificare il numero di cellulare che ti arriva messaggino l'otp all'interno della app e anche quello ti dà modo da bere sette giri di rota guarda come si fa e girando tu può vincere a fortuna anche altri premi fino al massimo di cinque euro seppate un viti due amici di loro debite ti danno un buono da 25 euro in un monte di negozi vediamo la vista non è un buono intero ovvero bisogna di spenda 25 euro o più in uno di questi negozi è di nuovo le 25 euro due tre giorni dopo ti tornano prima nella app di world socks e poi il tuo torrente meglio di così metti tu indirizzo di asa nazi a un po all'interno della app e vedrai neanche lì tu può riuscire a vincere altri quattro giri di rota ogni giro di rota magari tu vinci altri 10 centesimi 20 centesimi 50 centesimi o se no qualche invito per invitare altrettanto a usare questi boni a un altro amico un'altra mia un tuo parente che tu lo fai entrare su world socks e anche lui può fare uguale ai premi che ci sono con world socks il cassino di risparmio sono inizialmente questo qui con giri della rosa che a fortuna è che tu puoi riuscire a prendere anche fino a 5 euro gratis ma poi c'è una cosa più buffa ancora una volta il tuo collegato uno più dei tuoi antiorrenti a questa app lui ti fa una scaldagliazione di tutta la lista dei movimenti tutte le spese che ho fatto le tre mesi prima e se trova delle spese fatte con i loro partner commerciali ad esempio idea di un tuo fatto le spese ai conad e così via ti dai cashback sulla roba e tra spesso anche tre mesi prima addirittura di metterla è un qualche cosa questo di credibile ti daranno è vero lo 0 5 l'un per cento della spesa o però 9 centesimi gratis all'improvviso ti potrebbe andare però anche parecchio meglio con quelli che sono i cashback immediati che sono addirittura retrattivi una ossa incredibile non ce l'ha nessuno tu potrete prende e premi tua comprando le cifra hard oppure tu potrete prende premi tua con l'invito avuto da un amico ad esempio per fare un buono zalato da 15 euro oppure un buono amazon da 10 euro o un buono da 10 euro 10 m di conad della rai dell'asse lunga c'è un monte di negozi da poter usare da sfruttare questi boni in cui si paga l'anticipo e ti ritorna indietro la cifra di cui buono e tu ci avevi quindi c'è un modo anche di invitare l'amici che può essere il link con l'invito normale in cui l'amico va avanti normalmente o se no c'è modo di invitare l'amici anche con una promozione con un buono specifico tu inviti un amico con il buono zalato da 15 euro e se un amico spende da qui a tre mesi 15 euro più con zalato con la carta o legata a world socks quella mi dice ero il ritorno non il conto questo è un regalo di natale poi con il regalo di natale tu inviti la tua sorella e tu gino quello e l'altro altrettanto un buono zalato da 15 un buono un euro da 25 un buono dell'asse lunga da 25 e così via invitando ad esempio due amici e noi si è usato il buono da 25 per andare a con la spesa all'asse lunga si è comprato anche le scuole ma non solo si è preso un monte di macchie o quali da 15 della roba di zalato ad esempio ho fatto io regali della roba da vestire è tipo per la fedora mi fa vedere qualcosa ma più di tanto quello gli ho preso come lo può vedere c'è sempre il cartello dell'uniero anche qui 25 euro a fedora fammi vedere ecco io ho preso una bella padella un uo che sono invece da 10 euro mi sono fatti il regalo per me e ho preso un bel cappello per l'inverno si è preso anche per la nipote di fedora guarda l'ombrellino di dopo ciccio io ho festeggiato tutto questo bel di dio e mi sono scolato una delle bottiglie buone e con questo ti saluto perché qui è piovano un monte di regali parli anche te quest'anno e regali natale corsini di l'arma di cani dubbi votate al risparmio tutti i regali di natale sono gratis